Ha candidamente confessato che gli sarebbe piaciuto fare il cassiere in un supermercato perché amava da piccolo maneggiare i soldi ed è anche appassionato di geografia. Poi però la vita gli ha riservato un destino molto più gradevole regalandogli la capacità di fare gol. Una svolta totale per un ragazzo sardo come Matteo Mancosu che prima ci ha fatto gol al provinciale con la maglia della Tina e poi è sbarcato a Trapani contribuendo alle nostre fortune con la maglia numero 11. Dalla tripletta realizzata a Cremona si è ritagliato un capitolo indelebile nella storia della città e della nostra memoria 26 reti e titolo di capo cannoniere della serie B. Oggi si può anche dire che amava giocare davanti al computer fino a notte fonda con qualche sigaretta ad accompagnare il suo essere nottambulo vezzo di un calciatore capace di sfruttare come pochi la profondità incassava le spalle, scattava nello spazio e si presentava a tu per tu con il portiere. All'inizio erano un po' troppe le occasioni che non sfruttava in questo frequente uno contro uno poi una volta venne Antonio Conte a Trapani e gli suggerì di dribblare anche il portiere. Consiglio recepito e tradotto. Dopo Trapani non ha più trovato la vena realizzativa che qui lo aveva accompagnato né a Bologna né a Montreal in Canada. Ha però avuto il tempo di dare una mano ancora a Roberto Boscaia per far tornare l'entella in serie B. Ora che Matteo Mancosu ha scelto di smettere di giocare, che ha deciso di collaborare da istruttore nel settore giovanile del Cagliari, non possiamo che sorridere coltivando i ricordi augurandogli buona vita. Non crediamo di violare gravemente la privacy raccontando che nel suo messaggio di Whatsapp in risposta al nostro in bocca al lupo ha scritto Grazie mille, sarò sempre il Mancosu del Trapani e questo mi riempie di orgoglio. Sapevamo cosa fosse lui per noi, adesso sappiamo cosa siamo noi per lui.